Eccoci qua, in questo breve video parleremo del processo comunicativo, della comunicazione strategica, illustrando ovviamente i principi generali. Ora è molto importante tener conto che la comunicazione è un processo e che è anche e soprattutto un comportamento, poiché un comportamento è qualcosa di osservabile, di studiabile. Esistono dei principi importanti da rispettare ogni qual volta interagiamo con gli altri, ogni qual volta parliamo appunto di comunicazione strategica. È importante prendersi cura della comunicazione e quindi non parlare tanto per parlare come si suol dire. Bisogna anche considerare che esiste uno stato fisiologico utile e funzionale alla comunicazione efficace e banalmente dobbiamo essere in forma per essere anche carismatici e persuasivi e quindi per rendere la nostra comunicazione efficace. Dobbiamo imparare una cosa molto importante, un po' un'abitudine che ci deve ritornare sempre in mente, che tutto quello che non diciamo in realtà non esiste, quindi non diamo per scontato mai nulla, soprattutto nel processo comunicativo. La comunicazione verbale è ovviamente importante, banalmente io dico sempre che soggetto predicato espansione dobbiamo pur saperlo mettere, però in proporzione tra comunicazione verbale, che è importante, e comunicazione non verbale, è tutto quello che riguarda, è sicuramente più strategica e rilevante la comunicazione non verbale, su questo magari faremo degli altri percorsi specialistici. Quindi sono questi cinque punti importanti della comunicazione strategica. Prendersi cura della comunicazione, qual è lo stato fisiologico utile e funzionale, non lasciamo per scontato nulla e quindi il principio è tutto ciò che non viene detto in realtà non esiste. La comunicazione verbale è importante, ma lo è ancora di più la comunicazione non verbale. Se all'inizio di un percorso di comunicazione strategica solitamente si dice siamo responsabili del 51% dei risultati di una qualsiasi interazione, dopo che uno diventa competente e consapevole del grande potere che abbiamo attraverso lo strumento comunicazione, direi che la regola futura sarà che siamo responsabili del 100% o 99% diciamo, dei risultati che otteniamo e quindi anche di quelli che non otteniamo. Una simpatica vignetta per stemperare l'argomento sicuramente molto importante e serioso, che si riferisce alle eventuali differenze che ci possono essere tra la propensione a comunicare tra una donna e un uomo. Noi due dobbiamo parlare, dice lei, e lui dice sì cicci, poi però quando hai finito spegni. Beh, in effetti dobbiamo considerare che esistono anche delle differenze legate al genere maschile e femminile. Probabilmente, secondo alcuni studi, le donne sarebbero un po' più propense alle capacità comunicative rispetto agli uomini, ma queste sono leggi, diciamo, lungi dall'essere dimostrate poi alla lunga scientificamente. L'ascolto fa parte dell'abilità comunicativa. Non possiamo essere degli abili comunicatori se non abbiamo anche un orientamento all'ascolto, se non ci concentriamo sulla programmazione della comunicazione, se non siamo, per esempio, delle persone empatiche, se non conosciamo e non cogliamo il feedback, che è l'elemento fondamentale della comunicazione, se non abbiamo capacità di concentrazione. Quindi lì dove si parla di capacità di ascolto, in realtà, come vedete, esistono queste dimensioni dell'ascolto, l'orientamento all'ascolto, la concentrazione, il feedback, l'empatia, la capacità di programmare la comunicazione. Attraverso la nostra comunicazione, quindi, noi possiamo ottenere un determinato risultato, quindi ogni comunicazione deve comunque avere un obiettivo. È chiaro che devo seguire degli step, se vogliamo, dalla costruzione del messaggio alla contestualizzazione del messaggio, perché noi non comunichiamo sempre nello stesso modo e l'ambiente in cui comunichiamo deve essere considerato, il trasferimento del messaggio. In tutto questo esistono aspetti che sono sia di natura cognitiva, quindi il contenuto, diciamo, della nostra informazione, della nostra comunicazione, gli aspetti emotivi o emozionali del linguaggio e della comunicazione e anche gli aspetti motivazionali. Nel momento in cui vogliamo essere efficaci, quello che suggerisco è sempre quello che si chiama modeling, modellamento, ovvero occorre riferirsi a quelle persone che per noi sono efficaci nella comunicazione e quindi in questo caso dovremmo comportarci come un antropologo che studia, osserva bene queste persone, perché poi dovremmo fare i conti con tutta una serie di aspetti, quindi per essere efficaci dal punto di vista comunicativo, dobbiamo poi fare i conti con le nostre paure, con la struttura della comunicazione, con il nostro inconscio ovviamente, con l'atteggiamento giusto e positivo, quindi lo stato fisiologico, con la creazione del rapport che bisogna adottare con le varie persone con cui ci troviamo a interagire, qual è la giusta energia e se quando ci vuole il carisma. Impariamo però anche a sorridere per svariate ragioni legate anche a come siamo strutturati e vi invito anche a rivedere un po' il piccolo video sui tre cervelli perché dobbiamo imparare a sorridere perché sostanzialmente la serietà, l'eccesso di serietà crea sempre degli ostacoli nella comunicazione, la certezza, quando siamo convinti e certi siamo solo illusi, l'importanza, ovvero dobbiamo abituarci, allenarci a rendere l'altro che sta comunicando con noi importante. È rilevante anche dire che è giusto e corretto scegliere le parole opportune perché come vedremo magari in altri percorsi, esiste una vera e propria ingegneria linguistica, cioè i termini possono attivare o meno, possono darci o meno alcune risonanze, attivare quindi percezioni, risonanze, sensazioni, sentimenti eccetera. Quindi è molto importante l'accuratezza dei termini. Di questo, con questa bella immagine simbolica, ne parleremo in maniera più approfondita in altri percorsi, però è come dire, l'immagine dell'impiccato, il famoso gioco dell'impiccato, ci ricorda che se usiamo le lettere sbagliate, in questo caso lo estendiamo alle parole, qualcuno muore. Bene, io ho terminato con questo piccolo video, noi ci rivediamo sicuramente sul mio sito www.mircoturco.it o in altre occasioni formative. A presto!